Non la edizione di questa rassegna teatrale di spettacolo qui a Ciron Marina, una serie di eventi importanti? Assolutamente sì, iniziamo questa stagione teatrale 2024, diciamo da gennaio, anche perché il nostro teatro ha visto un importante finanziamento sull'ecoefficientamento energetico, quindi finora insomma impegnato con dei lavori è ancora adesso, però iniziamo una stagione teatrale veramente a ritmo, dallo spettacolo di prosa, dallo spettacolo in vernacolo, alla musica, al musical, quest'anno anche il cabaret, il 9 marzo un omaggio alle donne con Rosalia Porcaro. Quando inizia questa stagione? Il 21 gennaio sarà la prima insomma delle serate fino ad aprile, nel frattempo avremo anche dei matinè dedicati ai ragazzi, ai bambini, con tre appuntamenti, doppio turno la mattina e poi alcuni pomeriggi in cui insomma ci sarà possibilità gratuitamente di frequentare dei laboratori teatrali di canto e di danza e io sarò una delle insegnanti di teatro. Un momento bello, importante che inizia il 21 gennaio, ma dobbiamo dire che in realtà c'è bisogno di tutto questo nel nostro territorio. Assolutamente sì, c'è bisogno di una cultura effervescente e il teatro è cultura e il teatro deve essere vissuto da tutti quanti noi. Io l'invito che faccio alla popolazione di Ciron Marina e non solo, anche al circondario perché ne vale la pena, è quello di venire a teatro, di acquistare gli abbonamenti, di venire a vedere questi spettacoli con i vostri familiari perché in qualche modo insomma il teatro crea aggregazione e convivialità. Vogliamo ricordare dove è il teatro? Il teatro Alicchia è in Via Pola, qua a Ciron Marina, un teatro molto bello di oltre 250 posti e da vivere. Questa rassegna teatrale che inizia il 21 gennaio è alla sua nona edizione? Sì, è una rassegna che è nata per l'appunto nove anni fa. Abbiamo iniziato noi come compagnia teatrale a portare avanti questo discorso di promozione sociale e culturale attraverso il teatro Alicchia qui a Ciron Marina e da un po' di anni fa abbiamo dato vita insieme all'amministrazione comunale alla fondazione Città di Ciron Marina. È stata una scelta fortemente voluta dall'amministrazione comunale che collabora con questa iniziativa ormai in maniera piena e effettiva. Portiamo avanti un discorso di socializzazione prima di ogni cosa cercando di utilizzare proprio il teatro come luogo di aggregazione. Quest'anno abbiamo organizzato una rassegna che è abbastanza varia nel senso che oltre alle solite iniziative legate alla prosa abbiamo anche creato dei movimenti di cabaret, spettacoli musicali con dei musical e quindi cerchiamo di offrire un pochino alla cittadinanza un'offerta a 360 gradi nella speranza che effettivamente attraverso il teatro si possa promuovere un'iniziativa culturale e sociale. Grazie.